La campagna lanciata per il referendum abrogativo riguardante la legge sull'autonomia differenziata, entrata in vigore circa un mese fa, procede a gonfie vele. Basta pensare che nel giro di quattro giorni sono state raccolte oltre 250.000 firme digitalizzate, quindi valide, via internet, senza contare i tanti cittadini che hanno firmato di persone ai gazebi installati in tutta Italia. La norma in questione, una volta approvata dal governo Meloni, ha suscitato reazioni avverse non solo da parte dei partiti di opposizione, ma anche da parte di tante associazioni civiche, religiose e universitarie, nonché dal mondo imprenditoriale e da quello accademico. L'accusa principale che viene mossa è che si tratta di una legge secessionista, che aumenterà il divare economico tra Nord e Sud. D'altronde, se al momento dell'approvazione i parlamentari della Lega hanno svendolato bandiere padane, un motivo ci sarà. Tutti questi rami della società si sono uniti formando un comitato nazionale, al fine di raggiungere le 500.000 firme necessarie, come prevede l'articolo 75 della Costituzione, affinché il referendum per abolire la legge si faccia. E, tornando ai numeri di cui parlavamo a inizio servizio, si evince già da ora che il numero minimo verrà superato di gran lunga, nonostante il tempo non sia tantissimo, visto che le firme devono essere consegnate entro il 30 settembre alla Corte Costituzionale, che successivamente si pronuncerà sull'ammissibilità del referendum. Nel nostro territorio, ad occuparsi principalmente della raccolta firme dal vivo, sarà il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Valle della Lucania, i cui membri si sono posti l'obiettivo di riuscire ad essere presenti con il loro gazebo in tutti i paesi del Basso Cilento entro il 15 settembre. Alcune date sono già state ufficializzate. Il 1 agosto alle ore 19 a Orria, davanti alla Casa Municipale, è alle ore 20 e 30 nella frazione di Piano Vetrale. Il 2 agosto a Casalvelino, nella frazione Marina, alle ore 20. Il 3 agosto, sempre alle 20, ad Agropoli, in collaborazione con l'Associazione Culturale Cissalentum. La mattina di domenica 4 agosto, l'appuntamento è invece in piazza Vittorio Emanuele II a Vallo della Lucania, dalle ore 10 alle ore 13. La sera a Scario. Lunedì 5, invece, a Sapri. Da segnalare, inoltre, che il 2 agosto a Policastro Bussentino, frazione di Santa Marina, il gruppo politico Insieme per Tutti raccoglierà le firme nella propria sede, sita in via Tirrenia, dalle ore 18 alle ore 20.